Estra sostiene le start-up del mondo digital and energy. La Multi Utility ha infatti lanciato con Nana Bianca e Startup Italia la quarta edizione di E-Cube, il progetto che valorizza giovani imprese digitali ed energetiche. Anche Estra, Concentria, società di distribuzione del gruppo, è partner del progetto Smart Hydrogrid per l'uso dell'idrogeno nell'integrazione delle reti elettriche e gas che prevede un impianto pilota ad Arezzo. Lavoro in corso per la metanizzazione del capoluogo del comune aretino di Civiterna in Valdichiana, Centria, società di Estra, sta realizzando oltre 4 km di rete che serviranno ad allacciare 100 utenze. Più di 1600 classi partecipano a Scuole Viaggianti, il progetto ambientale di Estra per studenti di scuole dell'infanzia, elementari e medie di 5 regioni, Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Grazie a tutti.